ciao a tutti ragazzi da charsley ray bentornati sul mio canale con un nuovo video dopo tanto tempo devo dire anche perché mi sono preso una pausa bella lunga no anche perché comunque sia ci sono diverse situazioni che purtroppo a volte sfuggono di mano e a volte mi ritrovo senza tempo e quindi devo improvvisare devo prendere adesso mi ritrovo più delle volte a fare i video al bolo quindi se vedete che tra un video e l'altro ci passa un po di tempo non temete comunque non è di questo che dobbiamo parlare ma del quaderno della morte del death note si è più comune chiamarlo death note vero perché ovviamente su youtube su internet in generale si deve sempre parlare mezzo inglese perché se no non sembri colto non è vero vero no a parte questo comunque sia l'abbiamo sempre tutti chiamato death note perché comunque nella nel doppiaggio nel primo doppiaggio che ho visto io quello su mtv lo chiamavano death note quindi è quasi un riflesso condizionato quello di cui vi voglio parlare sono le cose che non sono saltate subito all'occhio o meglio quei dettagli di questo quaderno che forse addirittura lo stesso shinigami non poteva immaginare perché ovviamente gli shinigami hanno una riserva infinita di death note insomma almeno fino a quando non passa la miglior vita anche loro quando si sono stancati di vivere si intende e quindi tanto per cominciare parleremo delle regole quelle che più o meno conoscete un po tutti magari tranne qualche rarissima eccezione e di qualche cosa che probabilmente non conoscete ehi charles forse dovremmo prima parlare degli shinigami giusto monica in questo caso procedi lo shinigami è una personificazione della morte nella mitologia giapponese un equivalente del triste emettitore occidentale quello occidentale inoltre è una figura singola mentre gli shinigami sono appunto degli dei e pertanto molteplici lo shinigami è un termine ampio che si riferisce agli spiriti ai morti che danneggiano i vivi in generale il loro aspetto solitamente è sempre simile ciò che li caratterizza maggiormente è la loro carnagione grigio scura che fa tornare alla mente quella di un con caratteristiche orribili sebbene il loro nome racchiuda la parola kami termine usato per definire ogni tipo di figura divina la loro natura più che assomigliare a quella di un dio sembra essere molto simile a quella degli spiriti malvagi una curiosità nel manga dead knot si dice che gli shinigami mangiano solo mele questa frase trae ispirazione da una creatura di origine cinese chiamata assomujo o koshinin sono figure simili al mettitore di anime il cui compito è portare gli spiriti al meifu la terra dei morti e guarda caso loro mangiano mele perfetto monica ce la fai a ripeterlo in un'altra lingua una curiosità nel manga dead knot si dice che gli shinigami mangiano solo mele questa frase trae ispirazione da una creatura di origine cinese chiamata suomujo koshin ok 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 stop va bene così bene adesso iniziamo con le regole quelle che sicuramente molti di voi forse non tutti conoscono e che si trovano in queste pagine nere ce ne sono abbastanza quindi io vi suggerisco di prendervi un paio di bibite fresche un bel cestone di popcorn e una poltrona molto comoda perché da ascoltare ce n'è parecchio la persona il cui nome sarà scritto su questo quaderno morirà affinché abbia effetto occorre avere in mente il volto della persona di cui si scrive il nome in tal modo si evita di colpire eventuali omonimi dentro 40 secondi vengono indicate anche le cause della morte questa avverrà nella maniera descritta se le cause non vengono specificate la morte avverrà per arresto cardiaco dopo aver scritto le cause della morte i dettagli dovranno essere specificati entro i successivi 6 minuti e 40 secondi nel momento stesso in cui il quaderno tocca il suolo del mondo umano diventa di sua appartenenza il proprietario del death note può distinguere l'immagine e la voce del suo proprietario originale ovvero dello shinigami a colui che usa questo quaderno non è concesso di andare né in paradiso né all'inferno è possibile fissare il momento della morte indicandolo entro 40 secondi da quando è stato scritto il nome della vittima o la causa del decesso chiunque tocchi il quaderno pur non essendone il proprietario potrà vedere e udire lo shinigami al quale il quaderno apparteneva in origine fintanto che avrà il death note il proprietario sarà posseduto per il resto dei suoi giorni dallo shinigami al quale esso apparteneva in precedenza di norma lo shinigami apparirà al nuovo possessore entro 39 giorni dal primo utilizzo del death note fondamentalmente lo shinigami a cui apparteneva il quaderno non farà nulla per favorire o impedire le morti indicate sullo stesso lo shinigami non è tenuto a fornire spiegazioni su tutte le modalità d'uso del quaderno e sulle regole che verranno applicate al proprietario uno shinigami può allungare la propria vita scrivendo il nome di un umano sul suo quaderno ma un essere umano non può fare altrettanto un essere umano può accorciare la propria vita usando il death note il proprietario del death note può in cambio della metà del tempo che gli resta da vivere ottenere gli occhi dello shinigami che consentono di conoscere il nome e la durata vitale di una persona semplicemente guardando nel volto uno shinigami non può essere ucciso nemmeno se pugnalato al cuore o colpito con un proiettile alla testa tuttavia esiste un modo per uccidere gli dei della morte generalmente sconosciuto a loro stessi le condizioni indicate sul death note si verificheranno solo qualora siano possibili da realizzare per la persona indicata nemmeno uno shinigami può sapere con precisione fino a che punto le condizioni della morte siano possibili pertanto l'unico modo è constatare di persona una pagina strappata dal death note o anche solo un frammento mantiene tutte le caratteristiche del quaderno purché la scritta per manga ha caratteri leggibili e si è eseguita direttamente sul quaderno essa può essere effettuata con qualunque cosa cosmetici sangue o altro ci sono molte cose riguardanti il death note che nemmeno lo stesso shinigami a cui esso apparteneva in precedenza conosce nel caso vengano prima redatte cause e condizioni della morte e solo in un secondo tempo venga aggiunto il nome il quaderno avrà efficacia il nome deve essere scritto entro 19 giorni anche se a scrivere non è il possessore del death note questo sortirà i medesimi effetti se chi scrive un nome ne ha in mente il volto il death note non sortirà alcun effetto su coloro che non hanno raggiunto 780 giorni di età il suicidio è una causa di morte valida praticamente chiunque può commettere suicidio quindi non è considerato qualcosa di inconcepibile che si tratti di suicidio di incidente la morte della persona indicata non può causare direttamente la morte di altre persone in tal caso la persona indicata morirà di arresto cardiaco anche dopo aver scritto il nome della vittima l'ora e le condizioni della sua morte è possibile apportare qualunque cambiamento entro 6 minuti e 40 secondi nel caso si apportino modifiche a quanto scritto nel death note entro 6 minuti e 40 secondi occorre prima tracciare due righe sulla parte che si vuole correggere l'ora e le condizioni della morte possono essere modificate tuttavia una volta che è stato scritto il nome della vittima la sua morte non può essere evitata in alcun modo chiunque smarrisca il death note o ne subisca il furto perderà il diritto di proprietà a meno che non lo recuperi entro 490 giorni chiunque smarrisca il quaderno dopo aver fatto lo scambio degli occhi con uno shinigami perderà oltre ai ricordi legati al death note anche il potere degli occhi la durata della sua vita resterà comunque dimezzata è possibile prestare il death note senza perderne la proprietà chi lo riceve potrà a sua volta prestarlo a terzi lo shinigami non seguirà la persona a cui è stato prestato il death note ma sarà sempre accanto al suo proprietario chi ha ricevuto il death note in prestito non può effettuare lo scambio degli occhi qualora il proprietario del death note muoia mentre questo è stato prestato ad altri la proprietà passa a colui che lo possiede in quel momento qualora il death note venga rubato e il proprietario sia ucciso dal ladro la proprietà del quaderno passa automaticamente a quest'ultimo qualora il nome di una vittima sia indicato su due o più quaderni avrà la precedenza il quaderno su cui è stato scritto prima indipendentemente dall'ora prevista per il decesso se lo stesso nome viene riportato su due death note con uno scarto di 6 centesimi di secondo i due nomi verranno considerati scritti simultaneamente e la vittima designata non morirà ogni shinigami deve possedere almeno un death note il quale non può essere ceduto a un essere umano né è consentito che un umano vi scriva sopra gli shinigami possono scambiarsi i death note a vicenda e scrivere sui quaderni di altri shinigami senza problemi se uno shinigami prova simpatia per un determinato individuo e usa il death note allo scopo di allungarne la vita morirà immediatamente una volta morto uno shinigami scompare ma non il suo death note esso passerà di proprietà al prossimo shinigami che lo toccherà ma il buon senso vorrebbe che lo si cedesse al grande capo degli shinigami nel mondo degli umani il possessore di un death note deve toccare il quaderno di un altro possessore per vederne il rispettivo shinigami e udirne la voce un individuo dotato degli occhi di uno shinigami può leggere il nome e la durata vitale di una persona vedendone il volto i possessori di un death note non sono più prede bensì predatori pertanto non avendo bisogno di conoscere altre durate vitali se non quelle delle proprie vittime non possono conoscere la durata vitale di chi possiede un quaderno inclusa la propria uno shinigami non può rivelare a un essere umano i nomi e le durate vitali che può leggere grazie ai propri occhi ciò al fine di evitare di creare confusione nel mondo degli umani requisito per un death note usato nel mondo umano e la volontà di uno shinigami vivente di lasciarlo usare a un umano nel mondo degli umani dopodiché sebbene ciò sia assai improbabile se uno shinigami che ha posseduto un essere umano morisse il death note da lui portato nel mondo degli umani non perderebbe la sua efficacia nel caso si scriva incidente come causa della morte senza specificare le condizioni della stessa la vittima morirà in un incidente dopo 6 minuti e 40 secondi anche se le condizioni specificate per l'incidente riguardano solo la vittima designata se esso rischia di causare un grave impatto sull'ambiente circostante e su altre persone la vittima morrà di arresto cardiaco in modo da non coinvolgere nessuno la durata vitale visibile grazie allo scambio degli occhi con uno shinigami corrisponde alla vita futura nel mondo degli umani il nome visibile tramite gli occhi dello shinigami è il nome necessario per uccidere quella determinata persona anche qualora non dovesse corrispondere al nome con cui essa è registrata l'analisi qualora si perda la proprietà del death note si diventa incapaci di riconoscere l'aspetto e la voce dello shinigami a cui esso è legato se però il possessore lascia che qualcun altro tocchi il quaderno da quel momento quella persona sarà in grado di riconoscere lo shinigami di conseguenza se un individuo che non ha il diritto di proprietà del quaderno lo tocca e vede così lo shinigami egli continuerà a distinguerlo a meno che non diventi proprietario del quaderno e successivamente ne perde il possesso se il possessore di un death note scrive erroneamente un nome per quattro volte la vittima non potrà più essere uccisa per mezzo del death note tuttavia colui che sbaglierà intenzionalmente a scrivere un nome per quattro volte morirà la persona il cui nome venga scritto volontariamente in modo errato per quattro volte non diventerà immune al death note una volta riacquisita la proprietà di un death note ritornano i ricordi a esso relativi nel caso il proprietario abbia avuto a che fare con altri death note riaffioreranno i ricordi relativi a ciascuno di essi i ricordi possono tornare anche senza acquisire la proprietà del death note ma essi durano soltanto finché si tocca il quaderno se il death note entra a far parte del mondo degli umani contro la volontà dello shinigami che ne ha la proprietà a questi sarà concesso di restare nel mondo degli umani allo scopo di recuperare il proprio quaderno se ci sono altri death note nel mondo degli umani lo shinigami non potrà rivelare ad alcun essere umano la loro ubicazione e l'identità dei loro proprietari nell'eventualità che nel mondo degli umani ci siano sette o più death note avranno effetto solo i primi sei toccati dagli umani il settimo death note non avrà alcun effetto finché uno degli altri non perderà la sua efficacia finendo bruciato o distrutto o venga preso da uno shinigami che lo riporti nel suo mondo se si scrive il nome di una vittima a cavallo di pagine diverse il death note non avrà alcun effetto ciò nonostante il fronte e il retro di un foglio sono considerati come una pagina sola quindi se per esempio si scrive il nome sul davanti e cognome sul retro il death note avrà effetto nel mondo degli shinigami esistono alcune copie di ciò che nel mondo degli umani verrebbe definito un manuale per l'uso sulla terra del death note tuttavia non è concesso cedere tale manuale a un essere umano uno shinigami ha il pieno diritto di leggere il manuale rivelarne i contenuti a un essere umano di qualunque argomento si tratti bene e adesso passiamo al punto forte quello per la quale siete qui a vedere questo video cioè quello che neanche immaginate e che probabilmente neanche alcuni shinigami potevano immaginare su questo quaderno fino adesso l'unica cosa che abbiamo capito è che con questo uccidi qualunque essere umano e anche nei modi più fantasiosi ovviamente ci sono dei limiti ci sono cose comunque sia che questo quaderno non può fare insomma non puoi cioè se avete visto l'anime di death note avrete anche notato comunque sia che gli agami aveva fatto degli esperimenti su alcuni detenuti e a uno di questi ad esempio aveva scritto che sarebbe morto davanti alla torre eiffel ma così non è avvenuto perché era chiuso dentro il carcere quindi non poteva uscire liberamente e morire davanti alla torre eiffel tra l'altro poi non poteva farlo nell'asso di tempo che aveva scritto light yagami adesso non mi ricordo quanto era però so soltanto che il tempo non era sufficiente forse se magari avessi scritto da lì a una settimana forse poteva anche succedere quindi adesso passiamo a alcune curiosità prima di arrivare al pezzo forte allora ci sono alcune cose che vorrei dirvi la prima è le pagine del death note ok quando uno ci scrive sopra consuma la pagina e di conseguenza devi passare alla pagina successiva sembra che mi sto prendendo per il culo ma non è così aspettate quello che mi chiedo io ma se una persona invece di scrivere con una biro scrivesse con una matita ora viene da chiedersi se io cancello il nome la persona tornerà in vita non lo so magari per sicurezza mi assicuro che muoia in malo modo e quindi anche se cancello il nome rimarrà comunque morto sta di fatto che in un modo o nell'altro se noi usiamo una matita la pagina rimarrebbe comunque di nuovo pulita e potremo di nuovo scriverci sopra ma mettiamo anche il caso che una persona non abbia fatto questo ragionamento fin da subito e abbia finito tutte le pagine bianche ci sono anche le pagine nere le pagine nere del quaderno funzionano come le pagine bianche è sufficiente scriverci sopra con qualcosa comunque sia che vada in contrasto con il nero tipo un bianchetto o un pastello bianco e anche in quel caso il quaderno avrà efficacia e adesso io vi chiedo questo qui può non soltanto uccidere ma può anche manipolare gli eventi precedenti la morte quindi se io lo utilizzassi in un modo un po particolare ci avete mai pensato che invece di morire subito potrei magari scegliere esattamente quando morire e di conseguenza allungarmi la vita se io per esempio scrivessi sul death note non lo so che io morirò non lo so all'età di 120 anni adesso ve la faccio proprio ve la butto proprio lì e magari anche scegliendo il luogo magari scegliendo anche un luogo che mi piace no e magari non so morire pacificamente nel sonno io praticamente mi sarei assicurato 120 anni di vita puliti puliti senza correre rischi saprei anche che se io andassi a compiere magari non lo so imprese magari pericolose la mia morte è già scritta sul death note quindi di conseguenza io qualunque cosa faccio il death note si assicurerà che io arrivi vivo fino al giorno della mia morte sì è una cosa un po curiosa però ascoltando tutte le regole ce ne sono alcune che vanno un po in contraddizione le une con le altre ma sostanzialmente come vi ho già detto ci sono cose che perfino lo shinigami non sa e di conseguenza in questo modo si inganna un po diciamo il death note perché tu sì hai scritto il nome di una persona per farla morire ma se tu scrivi anche quando il death note la può far morire soltanto quando scadrà il suo tempo se voi scrivete una data cioè la data di quando quella persona deve morire sarà allora che quella persona morirà di arresto cardiaco o di una qualunque morte voi sceglierete quindi il death note se usato con intelligenza può anche allungare la vita fra parentesi o comunque assicurarvi una vita lunga e fino a quando volete voi ovviamente cercate sempre di essere ovviamente scrupolosi sappiamo che l'essere umano può vivere oltre 100 anni ma non cominciate a scrivere magari non lo so tipo 300 400 anni perché non so non credo esistano esseri umani che vivano così a lungo cioè ovviamente questa cosa non credo che possa valere per noi comuni mortali ma magari per qualcuno magari che è impaccato di soldi può rimanere anche attaccata a una macchina e continuare a vivere anche se praticamente è un vegetale ma quella non la chiamerei vita quindi io quando parlo di vita parlo di vita di fatto cioè nel senso che una persona può ancora insomma compiere azioni può ancora farsi anche tipo anche solo una passeggiata nel parco ma comunque sta ancora vivendo e quindi fino a quell'età lì diciamo è ancora possibile ci tengo poi comunque a dirvi un'ultima cosa insomma è una piccola raccomandazione per quelli che magari potrebbero pensare di usufruire è una cosa che era già presente nelle regole ma è giusto tenerla a mente per gli umani che hanno utilizzato il quaderno della morte non esiste né il paradiso nell'inferno tutto qui chiaro bene e prima di lasciarvi vi vorrei mostrare qualche qualche piccolo extra diciamo per non lasciarvi così insomma c'è stato già molto però non voglio limitarvi solo a questo vi voglio mostrare un paio di cose la prima cosa che voglio mostrarvi è questa è una penna di uno shinigami per scrivere sul death note questa è la borsa di l e insomma non possono mancare anche questi 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 che adesso vi mostro sono dei dischi qui dentro c'è la colonna sonora dell'anime e qua c'è anche un libricino illustrato stessa cosa vale anche per questo che è del film numero 2 vedete qua c'è il disco e c'è il libricino illustrato incorporato bene e con questo vi saluto scusate se tra un video e l'altro a volte ci passa un po di tempo però ognuno ha i suoi problemi non posso dirvi altro per adesso l'unica cosa che posso dirvi è che cercherò magari di fare anche qualche video breve magari per riempire i tempi morti in modo che così magari se ci riesco cerco comunque di non far passare un altro mese tra un video e l'altro insomma però farò quello che posso naga di più non posso promettervi per il resto che posso dire ha scusate è vero mi stavo per dimenticare grazie monica per il tuo aiuto sei sempre molto preziosa intendi dire che mi deve un favore sarà per un'altra volta puoi contarci